Rocco Mil Barone, un grande uomo, è l'istituzione della Costa Ionica. Io, grande amico, Rocco, non c'è tutto bene? Puoi rilasciare l'intervista? Non rilascia l'intervista, perché ti chiamano il Barone della Costa? I titoli stanno solo sui libri, e i libri più stanno in alto e più non servono. Trai tu le conclusioni. Vabbè, non essere modesto, dici almeno la verità. Non è una modestia, è un detto di fatto. All'epoca i baroni erano squattrinati. E adesso? All'epoca, e anche oggi, ecco perché sono un dipendente di Pippo. Grazie. Rocco! E non fare una foto con il brutto, così sembra più bello. Alla fate. Fatevi una foto con il brutto, così mi rassegato. Mi chiamo a te, sembra più bello un uomo, eh. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. E non fare una foto con il brutto, così mi rassegato. Buon appetito! Buon appetito! F Ulti a voi. Buon appetito! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Giulia, grazie. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Allora. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.